e alla regia di avviare la registrazione. Grazie. Allora, benvenuti a tutti. Siamo appunto ormai al sesto webinar, comincio a perdere il conto, cominciano a essere tanti. Abbiamo qui oggi il nostro relatore che è Michele Vianello che appunto ci racconterà un po', ci darà un po' di informazioni sul piano triennale per l'informatica e soprattutto sull'aggiornamento che c'è stato da ultimo appunto che riguarda il 22-24. Questo è uno dei webinar che si svolge nell'ambito del progetto FAST cui appunto voi avete dato e avete manifestato il vostro interesse a partecipare, in particolare diciamo all'ambito A che è quello sulla transizione digitale. Quindi vi accompagneremo, sapete diciamo, perché ormai lo stiamo facendo da tempo, insomma con questo ciclo di webinar che appunto servono appunto comunque per darvi diciamo informazioni anche per un rafforzamento di competenze. Seguire diciamo, cominceremo poi con attività, con le task force regionali nei vostri territori, con appunto dei consulenti che vi affiancheranno. Insieme diciamo si farà un'attività di assessment dalla quale diciamo emergeranno, potranno emergere quelle che sono i vostri punti di forza o le vostre diciamo questioni critiche che dovrete affrontare e quindi insieme diciamo si definirà diciamo quali sono i microprogetti che si potranno portare avanti nei prossimi mesi. e oggi appunto l'altra volta abbiamo parlato del responsabile per la transizione digitale oggi appunto il nostro relatore è stato David Harris anche lui l'avete appunto conosciuto già in precedenza fa parte del nostro gruppo di esperti che lavorano su Fast e che appunto ci accompagneranno nei prossimi mesi in queste attività. E oggi appunto parleremo diciamo del piano triennale di come il piano triennale diciamo ci può aiutare diciamo a pianificare tutte le attività che servano per la transizione al digitale quindi anche diciamo a scoprire quali sono diciamo i legami con il piano integrato il PIAO il cosiddetto PIAO il piano integrato di attività di organizzazione e come appunto diciamo costruire la strategia nell'ambito del vostro comune intorno a questo che insomma può sembrare un adempimento ma adempimento solo non è anche se appunto e questo poi vi introduco al webinar diciamo che faremo nella prossima settimana come sapete diciamo ci sono ormai anche delle sanzioni il CAD prevede anche delle sanzioni diciamo per il non rispetto delle norme diciamo sul digitale quindi diciamo in qualche modo dobbiamo seguire diciamo tutta l'evoluzione e quindi cercare di insomma appunto quello che cercheremo di fare è quello di affiancarvi per cercare di far sì che tutte queste cose possono essere fatte sapendo bene l'abbiamo già detto tante volte che appunto i vostri problemi anche di di gestione della vostra comunità sono tanti e che appunto invece le risorse in campo non sono non sono grandi oppure diciamo sono molto 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 limitate quindi io direi che lascerei la parola a Michele Vianello e che quindi insomma ci può cominciare un po' a raccontare che cosa che cosa si può fare insieme grazie bene grazie Irene se mi fai condividere lo schermo perfetto condivido lo schermo io e poi cominciamo vedete le slide sì ok allora il tema che affronterò oggi pomeriggio con voi è quello del piano terrenale per l'informatica io volutamente ho però voluto intitolare questo webinar gestire la transizione al digitale il piano terrenale per l'informatica è uno strumento per gestire il processo di transizione al digitale fino ad ora quasi sempre i comuni piccoli non solo i piccoli e tutti in generale hanno proceduto ad un processo di digitalizzazione non di transizione al digitale di digitalizzazione sulla scorta di scadenze legislative normative quindi entro questa data dovete attivare speed d'ora in avanti si utilizza pago PA e così via oggi ci troviamo di fronte ad attività molto complesse peraltro attività che hanno loro fonti di finanziamento vedremo poi l'impatto del PNRR e questa attività va gestita va programmata non può più essere fatta sotto la scorta di scadenze d'altronde scadenze non ce ne sono più quello che bisogna fare bisogna farlo punto o perché ci sono obblighi legislativi quindi ognuno di voi deve programmare tutte le proprie attività di transizione al digitale poi vi farò vedere un po' di metodo un po' di schema e così via vorrei partire anche perché non abbiamo tantissimo tempo io su questo tema potrei parlarvi a lunghissimo mettiamola così è uno dei temi che peraltro a me piacciono di più vorrei partire con una prima slide di ordine metodologico cioè qual è il quadro di riferimento al quale voi dovete far riferimento quando trattate il tema della transizione al digitale il piano terrenale per l'informatica per la pubblica amministrazione di Agid non nasce spontaneamente come vuole l'Italia è figlio di una programmazione di tipo comunitario è questo primo documento che si chiama decennio digitale europeo da qua al 2030 l'Unione Europea ha stabilito una serie di obiettivi sia sia per il settore pubblico che per il settore privato per portare ad alcuni standard di digitalizzazione l'intera Unione Europea come vedete da un punto di vista metodologico è un documento di obiettivi consiglio a tutti voi trova facilmente online anche in italiano se avete voglia di scaricarvi questo documento il decennio digitale europeo e lì dentro voi troverete quali sono i principali obiettivi per le pubbliche amministrazioni e anche per il privato in materia di digitalizzazione tuttavia per alcuni obiettivi bisogna darsi degli indicatori cioè bisogna monitorare costantemente qui stiamo all'Unione Europea da qui al 2030 attraverso una serie di indicatori se stiamo e come stiamo avanzando nel nostro processo di avanzamento in materia di transizione al digitale in questo caso il range di indicatori la metodologia di indicatori che dovete utilizzare anche voi è il famoso indice desi ogni anno l'Unione Europea pubblica l'indice desi che è quello che misura lo stato di avanzamento del processo di transizione al digitale per i diversi paesi la sua volta l'indice desi è diviso in tanti indici è figlio di tanti indicatori ad esempio la diffusione dei servizi digitali online nell'indice desi ahimè il nostro paese non è proprio nelle primissime posizioni anzi si trova in posizioni abbastanza arretrate per consentire al nostro paese di correre verso il traguardo del 2030 e di rispettare i principali parametri ecco il PNRR che tutti voi conoscete il PNRR è lo strumento attraverso il quale viene finanziato il processo di transizione al digitale nel nostro paese una parte rilevante di quel processo di transizione digitale quello dedicato alla pubblica amministrazione voi lo trovate nel obiettivo M1C1 quindi il PNRR è fatto di tanti obiettivi uno degli obiettivi è questo M1C1 che è quello che dovete annotarvi è quello che riguarda voi e noi che non a caso si chiama digitalizzazione innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione quindi i soldini che vi fornisce il PNRR per procedere nel processo di transizione al digitale sono tutti inquadrati nell'obiettivo M1C1 digitalizzazione e sicurezza nella pubblica italiana l'insieme degli obiettivi i bandi per ricevere i soldi i bandi come vengono pubblicati ma soprattutto le finalità voi lo trovate in questo strategia Italia 2026 è un sito vero e proprio praticante c'è qualcuno di voi con il microfono aperto pregherei di chiuderlo grazie quindi nel sito strategia Italia digitale 2026 che poi vi farò vedere voi trovate troverete i diversi obiettivi cioè le modalità con le quali l'Italia partecipa al decennio digitale europeo quindi gli obiettivi e trova soprattutto però il piano degli investimenti e anche i diversi bandi ovviamente il processo di transizione al digitale nel nostro paese ai sensi dell'articolo non ricordo se 14 o 14 bis del codice dell'amministrazione digitale voi lo trovate sul piano triennale per l'informatica sempre ai sensi di questo articolo 14 o 14 bis ogni anno l'agenzia per l'Italia digitale quindi Agid emana o il piano triennale per l'informatica oppure un aggiornamento ai piani triennali già esistenti in questo momento è stato pubblicato nel gennaio di quest'anno l'aggiornamento al piano triennale per l'informatica 2022-2024 ed è quello a cui faremo riferimento nel webinar di oggi quindi il nostro punto di riferimento è piano triennale per l'informatica 2022-2024 prima domanda ovviamente che già vi pongo della quale vi prego di tener conto è avete fatto il vostro piano triennale per l'informatica il piano triennale per l'informatica è un obbligo ogni pubblica amministrazione deve farlo oppure se voi avevate già un piano triennale per l'informatica avete provveduto ad aggiornare il piano triennale per l'informatica che già avete che già avevate che cos'è il piano triennale per l'informatica è prima di tutto un documento di peraltro è approvato poi o con un DPCM o con un decreto del ministro o del ministro competente in questo caso non avendo più l'Italia un ministro ma un sottosegretario è un decreto della presidenza del consiglio dei ministri è un documento di obiettivi e di indicatori quindi piano triennale per l'informatica indica obiettivi che variano per tutto il paese ogni pubblica amministrazione deve prendere questi obiettivi e declinarli nel suo specifico cioè ogni comune anche se piccolo deve fare riferimento al piano triennale per l'informatica e deve dice Carla Pira se il piano triennale per l'informatica ancora non è stato redatto con quali tempistiche dovremmo procedere la mia risposta è ieri cioè va fatto immediatamente poi vi dirò a cosa va legato con quali atti e così via quindi il nostro dice poi Aurora Jessica Berardo buon pomeriggio il nostro ente di piccole dimensioni non ha mai adottato il piano triennale per l'informatica è possibile direttamente deliberare direttamente il piano triennale 2023-2025 sì assolutamente sì poi vi parlerò degli schemi e vi parlo di come pubblicarlo quindi in questo momento vi sto dando un po' i confini diciamo dovete tener conto nella pubblicazione degli indici dei parametri del piano triennale nazionale cioè non è che ogni ente fa il piano come vuole lo deve fare rispettando alcuni parametri alcuni obiettivi di tipo nazionale ovviamente piano triennale per l'informatica è da un punto di vista metodologico obiettivi e indicatori è evidente che però tutti gli obiettivi vanno realizzati tenendo conto del codice dell'amministrazione digitale quindi serve per realizzare gli obiettivi che sono dati dal piano triennale per l'informatica quindi i prodotti le metodologie devono rispettare rigorosamente piano triennale per l'informatica e le diverse linee guida emanate da Agit come voi sapete nell'ordinamento italiano esiste un codice dell'amministrazione generale che è quello che dà tutte le disposizioni di massima è il diritto di un cittadino avere la propria identità digitale è il diritto di un cittadino avere il proprio domicilio digitale come vanno fatte le firme digitali come va realizzato un documento informatico eccetera la traduzione pratica avviene attraverso linee guida le linee guida Agit emanate i sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione generale digitale hanno come lo stesso CAD un valore erga omnes quindi ricordatevi quando voi vedete linee guida Agit le linee guida Agit non sono una circolare ministeriale sono una documento peraltro pubblicato in gazzetta ufficiale che ha un valore erga omnes e come ribadito più volte dal consiglio di stato poiché ha un valore erga omnes la mancata applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni non solo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 18 bis del CAD ma può essere impugnata di fronte a un giudice amministrativo quindi quando voi vedete linee guida Agit e dovete fermarvi e rispettarle come si fa a pagopiat lo dicono praticamente lo dicono le linee guida Agit come si fa il sito istituzionale lo dicono le linee guida Agit eccetera quindi quando voi trovate linee guida Agit sapete che è la messa a terra normativa del codice dell'amministrazione digitale da un punto di vista normativo CAD e linee guida sono il quadro normativo e regolamentare scusate un goccio d'acqua perché ok ci ho detto questo è il nostro piano cioè in questo momento siamo di fronte al piano trenale per l'informatica aggiornamento 2022 2024 voi dovete fare o un aggiornamento che si chiamerà 23 25 anche perché essendo voi comuni poi vi dirò a stretti collegamenti con il PIAO piano integrato per l'attività e organizzazione e attualmente 30 giorni dall'approvazione del bilancio voi dovete approvare il piano il piano integrato attività organizzazione che è un 2023 2025 nel caso voi abbiate già in dotazione un piano trenale per l'informatica voi lo dovete aggiornare e farete un aggiornamento 23 25 già vi anticipo un tema il piano trenale per l'informatica viene o approvato o aggiornato con una delibera di giunta quindi una semplice delibera di giunta di approvazione del piano oppure dell'aggiornamento del piano deve essere approvato come parte integrante del documento unitario di programmazione cioè del DUP perché il piano trenale per l'informatica è uno strumento di programmazione ok è evidente che se voi avete già approvato il DUP 23 25 voi approverete il piano trenale per l'informatica come un allegato nel caso invece voi dobbiate fare totalmente il DUP peraltro il DUP si fa a luglio voi cominciate a farlo come parte integrante del documento unitario di programmazione e lo metterete in parte nel SES cioè nella sezione strategica in parte nel SEO cioè nella parte di tipo operativo perché fare il sito ha certo una dimensione strategica un esempio e sia chiaro ma anche una dimensione di tipo operativo anche perché poi leghiamo con il PIAO gli obiettivi di digitalizzazione vanno ricompresi nel piano integrato attività organizzazione se siete comuni ma non è il vostro caso ma ve lo dico lo stesso se per caso c'è un infiltrato che ha più di 50 dipendenti è una battuta e sia chiaro nella sezione A1 del PIAO che si chiama generazione di valore pubblico voi dovete mettere gli obiettivi di digitalizzazione quindi dovrete fare riferimento agli obiettivi del piano triunale per l'informatica inoltre dovete anche mettere tutti gli obiettivi che garantiscono piena accessibilità fisica e digitale quindi il tema dell'accessibilità lì con una sciocchezza dicono agli ultra 65 anni ma il diritto all'accessibilità fisica e digitale è per tutti quindi va messo assolutamente per tutti se invece siete sotto i 50 dipendenti voi non dovete compilare la parte di PIAO quella A1 a valore pubblico adesso rispondo Ilaria voi dovete però portare nelle performance quindi siete sotto i 50 nelle performance dovete portare gli obiettivi di digitalizzazione e rifare gli obiettivi di digitalizzazione che sono il piano triunale per l'informatica cioè se voi dovete rifare il sito bando PNRR e questa è una performance se voi estendete l'utilizzo dei servizi con speedc e questa è una performance se voi fascicolate di un piano per fascicolare digitalmente nel vostro e nel vostro e è una performance quindi tutti gli obiettivi che voi mettete nel piano triunale per l'informatica che siate sopra i 50 che siate sotto i 50 vanno messi rigorosamente nelle performance quindi ovviamente sono nel DUP e sono in tutti gli strumenti di programmazione finanziaria dice Ilaria Sada nel nostro comune possiede un piano internale per l'informatica 21-23 dobbiamo rifarlo possiamo aggiornare quello esistente posso fare una battuta dipende come avete fatto quello 21-23 perché francamente io piuttosto che lavorare su vecchi piani io preferisco farli ex novo peraltro come Formez noi mettiamo a disposizione vedrete nell'assessment ma poi anche nelle schede di prodotto anche un'attività di vera e propria assistenza a voi nella redazione dei piani triunali per l'informatica peraltro mi permetto di dire come poi diciamo io anche professionalmente ne faccio di queste attività Agid mette a disposizione di tutti di tutti gli enti pubblici un form ma essendo messo a disposizione mi permetto di dire agli amici di Agid questo amici non è ovviamente ironico proprio perché sono amici mettere a disposizione degli amici di Agid ha il difetto di essere uno schema di piano triennale che ha valore per l'Inps per il ministero degli interni e per il comune di Battipaglia ma il comune di Battipaglia ha obiettivi di transizione al digitale che certo stanno nel filone quello più generale ma che poi nella loro applicazione pratica sono totalmente diversi cioè popolare cioè come affronta Pago.pia il comune di Battipaglia non è come lo affronta il ministero o come la provincia che ha pochi servizi ai cittadini come fa Speed e CIE il comune di Battipaglia non è come lo farà una regione o una provincia quindi io spesso mi permetto di dire non è un obbligo di legge utilizzare il form agit si possono utilizzare anche altri form noi ad esempio un form un po' più calato come vi dirò più avanti nella chiacchierata di oggi pomeriggio un po' più calato nella realtà dei comuni soprattutto piccoli come i vostri se voi siete comuni piccoli sia chiaro cioè voi dovete applicare un piano ad comuni di piccole dimensioni 10 dipendenti 2000 abitanti e così via cioè quindi con una specificità molto diversa ritengo si possano utilizzare forma anche diversi ad esempio noi ne mettiamo a disposizione nella nostra scheda mettiamo a disposizione anche un form che può essere diverso più aderente a voi cioè parliamoci chiaramente quest'anno voi chi di voi ha corso per i bandi PNRR deve prima di tutto nel piano come vi spiegherò fra un po' programmare tutte le attività PNRR cioè non c'è niente da fare perché altrimenti perdete i finanziamenti quindi la vostra pianificazione è una pianificazione dedicata prevalentemente PNRR e poi gestione documentale perché voi sempre di più avete gestione documentale informatica volenti o nolenti e come voi passate da un back office analogico a un back office digitale è un'attività che va rigorosamente pianificata ne parleremo comunque abbiamo ancora un'ora quindi ne abbiamo un po' arrivo in tempo a raccontarvi anche questa parte quindi la risposta ilenia è dipende come è fatto il 21-23 perché se il 21-23 è stato fatto in un certo modo ci ragioniamo se ha obiettivi e un approccio da da 2021 vale la pena forse di ripensarlo comunque poi verifica le cose che ti dirò oggi pomeriggio poi decidi se rifarlo oppure se sistemarci perché intanto come vi dicevo prima c'è una prima grande differenza cioè il piano parliamoci chiaramente io coi piccoli comuni ci lavoro molto vi conosco molto bene il piano eternale per l'informatica aveva un grande problema non era finanziato ovvero mettiamo il responsabile transizione al digitale aveva bisogno di rifare il sito riadeguare il sito e così via doveva andare dal segretario o dal sindaco a mendicare i soldi e spesso dovevano fare la lotta con altri obiettivi che soprattutto la parte politica riteneva più importanti quasi sempre sbagliando sia chiaro oggi il piano trenale per l'informatica è in larga parte finanziato cioè i bandi PNRR lo finanziano passare al cloud è finanziato rifare il sito è finanziato estendere SpeedC è finanziato Appio è finanziata Pagopia è interamente finanziata piattaforma notifica è finanziata piattaforma nazionale dati è finanziata quindi il responsabile transizione al digitale che qui vi ho indicato come uomo molto ricco ormai con tante risorse ha un piano che è in larga parte finanziato su obiettivi che sono quelli indicati da PA Digitale 2026 che sono quelli del CAD peraltro niente di nuovo in larga parte che bisogna passare a cloud è prevista anche dal CAD che bisogna estendere SpeedC è prevista dal CAD che la gestione documentale vada fatta in un certo modo è prevista dal CAD e così via quindi il piano ternale per l'informatica è interamente finanziato il responsabile transizione al digitale non ha più bisogno di mendicare sull'uso il termine anche molto duro perché a volte è stato proprio così di mendicare risorse dal ragioniere o da altri settori ha le risorse per procedere nel processo di transizione al digitale un piccolo comune ha le risorse per procedere nel processo di transizione al digitale capite che è un salto di qualità che però necessita forte programmazione e ovviamente poi va raccordato con gli strumenti di pianificazione finanziaria perché questi soldi da qualche parte entrano e i residui poi da qualche parte andranno messi e ovviamente con il documento unitario di programmazione quindi la grande differenza rispetto al passato è che oggi il documento di programmazione che scusate che il piano triennale per l'informatica ha proprie fonti autonome di finanziamento vediamo in chat ci farebbe molto piacere se anche qui in chat rispondesse a questa domanda avete già il piano triennale per l'informatica se gli amici di Formez mi autorizzano se intendi se Formez può mettere a disposizione nelle nostre attività di assistenza una bozza di piano triennale per l'informatica sì vi posso dire già sì è una delle attività previste nei nostri progetti è quello proprio di assisterli anche in modalità semplificata per piccoli comuni alla redazione del piano triennale per l'informatica assolutamente sì è una delle nostre schede è una delle nostre attività non ricordo male è proprio uno dei microprogetti aiutarvi nella stesura del piano triennale per l'informatica quindi posso rispondere positivamente Daniela se ovviamente con la tua domanda in chat intendevi intendevi questo ok ah scusami Luca va bene ci siamo allora gli obiettivi del piano triennale sono quelli indicati nel famoso Italia digitale 2026 vorrei con voi così voi cominciate già a creare la vostra baseline cioè la base dalla quale partire ora ricordatevi che il piano soprattutto se poi va tradotto in performance non è una semplice dichiarazione di obiettivo deve dire da che punto si parte quindi baseline e dove vogliamo andare a parare in una certa dimensione temporale quindi baseline sarà il primo gennaio del 2023 o il 31 gennaio del 2022 a che punto ero e entro il 2025 dove voglio andare a parare tenendo conto che avete una tappa intermedia che è il 2024 dove molti dei bandi PNRR arrivano a loro maturazione o dove finiscono ok quindi dovete le domande le cose che vi dirò adesso servono soprattutto a individuare la vostra baseline e a darvi un obiettivo in linea con PNRR e con Italia Digitale facciamo avere anche queste slide non c'è nessun problema Ilaria tranquilla allora partiamo da obiettivo 1 qui sono 5 obiettivi obiettivo 1 diffondere l'identità digitale assicurata che venga utilizzata dal 70% della popolazione qui in realtà ci sono due obiettivi un obiettivo uno è diffondere l'identità digitale un obiettivo due è assicurarsi che venga utilizzata e non è che noi semplicemente dobbiamo dare speed non è questo dobbiamo dare speed ma anche garantire che vengano utilizzati che è cosa diversa su questo quindi speed cie prima cosa diffondere l'identità digitale diffondere l'identità digitale implica un'azione attiva da parte dei comuni anche da parte vostra si diffonde l'identità digitale anche quando si distribuisce cie carta identità elettronica ricordando ai cittadini che non è il semplice cambiamento di carta con plastica ma state diffondendo prima di tutto uno strumento che consente l'identificazione digitale cie è uno strumento di identificazione digitale soprattutto la nuova cie quindi che azione dovrete programmare nel piano faccio un esempio che nell'attività di front end quando distribuite carte di identità elettroniche voi spieghiate ai cittadini che non state semplicemente dando il documento di identità voi state dando uno strumento di identificazione per la fruizione dei servizi online e quindi dovrete anche dirgli guarda che esiste CEID quindi non basta che tu prenda la carta di identità devi anche scaricarti l'app CEID e funziona in questo modo volendo anche CSign così firmate digitalmente gli atti che vengono inoltrati alla mia pubblica amministrazione e guarda che esiste oggi la piattaforma CE che è quella che consente attraverso poche semplici attività che li puoi anche far vedere di generare un one time password per fare una identificazione ai servizi digitali utilizzando CE piuttosto che speed qualcuno di voi siete piccoli comuni quindi è un po' più difficile perché avete molte cose da fare può anche trasformarsi in un RAO pubblico ovvero una pubblica amministrazione un comune in grado di erogare a meglio di partecipare all'erogazione di speed da parte di un qualsiasi identity provider quindi diffondere l'identità digitale è la programmazione di attività che consentono di diffondere fra i cittadini la necessità di avere speed CE più che l'obbligo la necessità è utile avere CE e speed perché ci sono dei servizi e qui è molto incentrato siete piccoli comuni quindi non vi parlo di URP se foste i comuni più grandi vi direi che è molto un'attività da URP nei piccoli comuni è molto un'attività da anagrafe quando eroga le carte di identità elettroniche per capirci ma in generale mettere tutti i servizi mettere tutti i servizi anche in modalità digitale avete i soldi PNRR non accontentatevi di quattro servizi quelli che a volte vi ha consigliato il fornitore dovete pensare alla rete di servizi che voi mettete a disposizione in primis tutti i servizi alla persona quindi quelli legati ai servizi scolastici quelli legati ai tributi quelli legati alla polizia municipale eccetera cioè una buona dose di servizi ma qui non avete finito la vostra attività perché dovete assicurarvi che venga utilizzata dal 70% della popolazione anche questo è figlio di attività poi vedrete figlio di attività di formazione digitale della popolazione ma poi lo vedremo ma anche figlio di alcune scelte che voi farete alcuni servizi dovete decidere questo sta nella vostra autonomia organizzativa di erogarli solo in modalità digitale lo potete fare tutti i servizi scolastici ripetete lo schema nazionale tutti i servizi scolastici si fanno esclusivamente in modalità digitale iscrivere il ragazzino al trasporto scolastico solo in modalità digitale iscrivere il ragazzino alla mensa solo in modalità digitale iscrivere il ragazzino all'asilo nido solo in modalità digitale iscrivere il ragazzino alla scuola materna solo in modalità digitale eccetera partecipare ad un concorso del mio comune esclusivamente in modalità digitale e così via dovete vedere il grado di maturità delle vostre comunità senza cadere nello slogan ma i vecchi non i vecchi lasciate stare perché poi in realtà non è così cioè quindi quali sono nella vostra comunità i servizi che maggiormente potrebbero essere utilizzati e cominciare a volte a rendervi obbligatori esempio altro modo di scelta vostra nei nuovi siti istituzionali che tutti voi dovrete fare tornano linee guida agide ai sensi delle linee guida agide sul sito istituzionale e le piattaforme digitali è obbligatorio avere una scheda per ogni servizio cioè ogni servizio ha una scheda questa scheda non è più una scheda espositiva come sono attualmente le schede dei servizi è la scheda che consente attraverso la scheda che il cittadino fruisce di quel determinato servizio lo può fare o scaricando moduli oppure utilizzando SpeedC voi potete decidere dove siete maturi che alcuni servizi la scheda non presenti più la possibilità di scaricare moduli c'è solo la possibilità di utilizzare SpeedC servizi scolastici ad esempio solo SpeedC come vi dicevo prima cioè laddove voi decidete che è solo SpeedC e voi solo SpeedC ok la norma dice peraltro CAD che tutti i servizi tutti tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni devono essere offerti anche in modalità digitale voi questo in alcuni casi decidete di non farlo solo in modalità digitale quindi solo ed esclusivamente digitale perché dovete entro il 2026 arrivare a questo target del 70% della popolazione quindi nel vostro piano trennale per l'informatica voi dovete programmare le azioni e le attività informatiche ma anche di informazione alla popolazione che vi portano a questa venga utilizzata si intreccia col 2 colmare il gap di competenze digitali con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile io mi permetto di aggiungere in questa parte aumentare le competenze digitali dei cittadini ma anche vostre perché se voi non avete competenze digitali è complicato poi trasmettere al cittadino chi è che fa cosa cioè come come riesci non puoi solo usare facilitatori esterni cioè il vostro collega allo sportello che deve trattare a NPR certificati con un cittadino e deve conoscere bene come funziona NPR come si danno certificati online come si gestisce online un cambio di residenza cioè bisogna avere formazione allora tutti voi fate obbligatoriamente ogni anno il piano dei fabbisogni formativi io mi raccomando molto lo dico a tutti i webinar i seminari gli incontri che faccio in giro che il piano fa bisogni formativi 2023 2024 non sia solo il codice degli appalti che pure va fatto ma deve essere anche molto indirizzato ad acquisire competenze digitali esempi il lavoro di protocollatore cambia totalmente perché l'impatto dei bandi PNRR più delle linee guidagite sul documento informatico cambia totalmente il lavoro di protocollazione e qui va fatta una formazione specifica per i protocollatori a trattare un flusso che ormai è quasi interamente digitale quindi però questo va previsto non può essere casuale se un cittadino si presenta allo sportello e ti dice come posso prendere speed non è che lo sportello dice ripassa fra tre giorni che intanto mi informo chi è allo sportello deve sapere bene utilizzo di speed utilizzo di cia utilizzo di pago pia cioè va fatta una fortissima attività di competenze digitali che vuol dire conoscere bene il CAD ma soprattutto conoscere l'impatto del CAD cioè come si usa praticamente il CAD ovviamente poi una forte attività verso i cittadini cioè stendere le competenze digitali non è più come era qualche anno fa insegnare agli anziani usare una mail e word come se dovessero tutti scrivere le loro memorie e insegnare a tutta la popolazione l'utilizzo dei vostri servizi cioè voi farete un sito totalmente nuovo che è radicalmente diverso dai siti che conoscete e che porta ad accesso e voi non mettere in piedi un po' di attività verso i cittadini per spiegargli le novità come si naviga nel sito dove trovano i servizi come fanno a utilizzare i moduli speed e cie per iscrivere il ragazzino questo bisogna assolutamente prevederlo e magari questo si intreccia con funzioni di altri enti pubblici se io devo fare corsi per anziani attenzione quelle che vi dicono sono ipotesi sono attività di cose che già facciamo che già faccio se io devo fare oggi un corso per anziani è come andare sul sito di IMS e come trovare tutte le attività le funzioni le informazioni che gli possono servire non solo lo scaricare non solo lo scaricare sì vi ho già detto sì Federica potremmo avere bozza di piano triennale sull'informatica sì perché è uno dei progetti di assistenza che si fanno come Formez che faranno parte di questa attività di assistenza verso i piccoli comuni tornando agli anziani a voi conviene perché in realtà non è vero che gli anziani non sono ricettivi su questo basta spiegargli come si fa se tu lanci interamente i servizi scolastici è evidente che tu alle mamme e ai papà non solo devi dirgli guarda che tutti i servizi sono disponibili online ma devi anche spiegargli come trovarli all'interno del sito e così via quindi va fatta una forte attività rivolta ai cittadini molto pratica il tema delle competenze digitali ormai è pratica ha una base teorica il sillabo delle competenze nessun problema ma deve essere anche molto attualizzata non può essere teorica deve essere molto attualizzata come si fa concretamente cioè come come le fac cioè come faccio concretamente a iscrivere mio figlio alla scuola materna utilizzando speed ecco ci va fatta proprio una formazione pratica molto 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 pratica poi portare il 75% delle pubbliche amministrazioni italiane utilizzare i servizi in cloud voi per te problemi normativi e di sicurezza non potete più avere server che non esiste cioè scordarselo totalmente tutti i vostri servizi devono essere erogati in cloud ma anche tutte le vostre banche dati devono essere in cloud avete i finanziamenti PNRR quindi finanziamento PNRR è l'occasione per andare direttamente ad una fruizione in cloud ma anche ad avere salvataggio conservazione direttamente in cloud raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online e ragazzi servizi pubblici essenziali erogati online avete due pezzi di fortuna tutti i servizi online alle imprese attualmente obbligatoriamente sono tutti su swap quindi una parte avete risposto quelli rivolti ai liberi professionisti iscritti agli albi se avete sue sportello unico edilizia li potete già mettere in quella base quindi una parte sono già erogati online ma voi avete la dimensione infinita dei servizi alla persona tributi polizia municipale scuola e così via non potete accontentarvi di 4 perché spesso il finanziamento nei piccoli comuni te ne finanzio 4 5 e così via vi hanno dato un mucchio di soldi non ne puoi fare 4 o 5 devi ad esempio entro il 2024 farne una trentina cioè tutto il mondo della scuola dalla parte tributi polizia municipale richiesta di un certificato di destinazione urbanistica da parte di un cittadino l'iscrizione in concorsi pubblici avete una biblioteca l'iscrizione alla biblioteca eccetera e ci siamo intesi tutti erogati online 80% entro il 2026 da qua il 2026 ogni anno quanti ne fate questo è il piano trennale con realismo sia chiaro domani mattina tutti non lo farete mai perché non siete in grado di farlo non avete le forze non avete le competenze non avete tempo programmate però entro il 2026 c'è questo però per farlo bisogna censire questi servizi cioè quali sono questi servizi e questo è un punto che dovete fare voi non basta comprare una piattaforma da un fornitore l'infornitore poi ti dà una piattaforma on incomprensiva ma poi sei te che devi scegliere come attivarli e soprattutto come offrirli direttamente al cittadino quinto obiettivo è banda larga perché intanto voi non potete andare in cloud se non avete banda questo è la palissiano cioè quando voi andate in cloud evidente dovete avere connettività ma soprattutto vanno garantite alle famiglie e alle imprese reti a banda da larga qui il comune c'entra fino a un certo punto il comune può essere diciamo così il soggetto che si fa portavoce verso una regione che si fa portavoce verso il ministero che dialoga con operatori privati ma capisco voi siete piccoli comuni cioè in un grande comune è evidente cioè potete essere la regia coloro che sollecitano che spingono e così via piccoli comuni è già più in difficoltà cioè dedicatevi però a quanto voi avete di accesso alla banda larga a fini cloud soprattutto se siete piccoli comuni montani è un tema o di zone abbastanza diciamo così più relegate marginali e così via però questo bisogna un po' alla volta cominciare ad affrontarlo quindi questi sono gli obiettivi che entro il 2026 voi dovete assolutamente fare cosa vi finanzia quindi il PNRR quindi su quali parti voi ricevete soldini e che quindi diventano priorità per poter evolvere nel processo di transizione al digitale voi dovete programmare nel piano ricordatevi un piano finanziato e voi ricordatevi forse vi è stato detto in queste lezioni che il bando PNRR sulla digitalizzazione è un bando LAMPSAM cioè un bando di obiettivi raggiunti paradossalmente se esagero un po' è anche scherzo voi potreste aver raccolto bene tutta la documentazione ma non avete fatto il sito come previsto dal bando e non ricevete il finanziamento anche se la parte burocratica è corretta perché voi nei bandi siete abituati a curare molto la parte burocratica non siete abituati a lavorare per obiettivo il bando LAMPSAM sono i bandi PNRR sono tutti LAMPSAM sono bandi per obiettivo quindi Speedcie ricevi il finanziamento ad una condizione che tutti i tuoi servizi online siano accessibili sia con Speed che con CIE quindi se voi avete solo con Speed piano trenale per l'informatica deve programmare l'estensione a CIE quindi è un'interlocuzione verso un fornitore che oltre a avervi dato Speed deve darvi anche CIE e sempre previsto dal bando non ve lo deve fare non ve lo può dare esclusivamente su ve lo deve dare esclusivamente su una piattaforma OpenID Connect o IDC perché altrimenti dovete fare una formazione obbligatoria quindi bisogna verificare col fornitore che vi dia insieme Speed CIE ma che questi vengano su una piattaforma che si chiama OpenID Connect o IDC che non ve li diano in un'altra modalità inoltre con l'occasione va anche programmato il fatto che assieme a Speed e CIE come sistema di identificazione si metta anche EIDAS che è il sistema di identificazione europeo che è obbligatorio anche perché c'è procedura di infrazione comunitaria contro il nostro paese su questo tanto è vero che Agid vi sta sollecitando per assumere anche EIDAS d'altronde vi danno 14.000 euro 14.000 euro non si usano solo per Speed CIE bisogna chiedere al fornitore di aggiungermi anche EIDAS e soprattutto dovete tendere a non avere più solo piattaforma SAM L2 ma soprattutto di avere OpenID Connect poi avete Pago.pa quindi Pago.pa cosa vi finanziano e questo va programmato vi finanziano quello che viene chiamato full Pago.pa tutti i vostri servizi che necessitano di pagamenti vanno collegati tutti alla tassonomia Pago.pa quindi tutti programmazione nel piano triennale tutti quanti sono i vostri servizi che necessitano di pagamento ognuno di questo servizio deve essere collegato strettamente a Pago.pa ma questo non è sufficiente perché voi potreste avere Pago.pa ma se voi continuate a rendere pubblici o peggio ancora continuare a fornire gli IBAN cosa vietatissima voi avete formalmente Pago.pa ma tutti i flussi IBAN sono tutti fuori da Pago.pa quindi Agit prima o poi ve lo riscontra e ricordatevi che poi sono attività sanzionabili quindi ricordatevi attività pianificata Pago.pa quindi tassonomia che consenta full Pago.pa peraltro vi danno un mucchio di soldi per fare questa attività qua e però scelta organizzativa interna nel sito non c'è IBAN in amministrazione trasparente non c'è IBAN come peraltro vi ha detto ANAC nella modulistica non c'è IBAN nessuno fornisce IBAN tutti i cittadini utilizzano Pago.pa quindi pianificazione piano trenale per l'informatica in ogni sito c'è l'accesso a Pago.pa e la possibilità di autogenerare l'identificativo unitario di versamento nel caso non sia possibile generare da parte vostra gli avvisi Pago.pa siti e piattaforme per l'erogazione dei servizi online siti è forse la parte più complicata da programmare nel corso del prossimo anno e mezzo perché il sito ha poi lo vedremo meglio nel tempo che mi resta il sito ha per essere finanziato e per essere quindi a posto le linee guida agite deve avere alcuni requisiti ad esempio deve avere obbligatoriamente un'area personale quindi io entro dentro il sito in alto a destra ho un'area personale accesso con speed o cie e dentro l'area personale io devo trovare i procedimenti che ho in corso devo trovare le ricevute dei pagamenti devo trovare i numeri di protocollo delle istanze che ho avanzato devo trovare eventuali documenti che ho in corso con voi un contratto e così via capite che è un sito impegnativo molto diverso delle schede di servizio vi ho già detto cioè non è semplicemente il sito palcoscenico palcoscenico non è ironico è il termine che usa anche Agit cioè il palcoscenico cioè le modalità espositive è un sito porta d'accesso è un sito contenitore di documenti quindi un sito complesso e soprattutto nei suoi contenuti non va redatto dal CED e dall'RTD poi voi siete piccoli comuni è il frutto di un lavoro in comune la scheda servizio la scheda di ogni servizio è quella ogni settore deve verificare manutenere aggiornare le diverse schede servizio la modulistica collegata e così via cloud computing altro obiettivo ve ne ho parlato già prima peraltro si interseca con il tema della sicurezza che sarà che oggetto di altri webinar di altre iniziative da parte nostra e attenzione api per la piattaforma nazionale notifiche perché qui va programmato una serie di attività che portano al 2024 il prossimo anno è previsto il varo della piattaforma nazionale notifiche significa brutalmente tradotto nessuno di voi notifica più tutte le notifiche vengono verranno fatte attraverso la piattaforma nazionale il bando vi finanzia l'API cioè i connettori tra i vostri software che generano atti da notificare e la piattaforma prevalentemente due settori polizia municipale e i tributi che sono quelli che notificano più di tutti però dovete cominciare a pianificare adesso quindi piano triannale per l'informatica alcune attività che vi consentano di utilizzare la piattaforma la piattaforma non accetta documenti che non siano conformi alle linee guida agit sulla formazione gestione e conservazione del documento informatico quindi vuol dire attività da pianificare da adesso a fine 2024 che i gestionali e la prassi polizia municipale tributi che sono i due grossi ma anche tutti gli altri generino documenti esclusivamente come previsti dalle linee guida agito non potete aspettare il giorno prima del varo della piattaforma vanno generati tutti la piattaforma accetta documenti esclusivamente quelli che hanno l'indirizzo di ANPR perché l'unico vero anagrafe indirizzario valido per legge ANPR domanda e cosa da fare da subito non si può fare il giorno prima i gestionali vostri pescano gli indirizzi da ANPR o li pescano da vostri software spesso è da vostre banche dati che avete in comune e questo non è possibile i vostri gestionali devono essere tutti interoperabili con ANPR perché è in ANPR che esiste la vera base dati quindi capite piattaforma nazionale peraltro poi da pianificare adesso piattaforma nazionale notifiche ha impatto su alcune attività non c'è più il messo notificatore ad esempio non c'è più perché le notifiche sia analogiche che digitali vengono curate o dalla piattaforma o dal gestore della piattaforma e non si scrivono più raccomandate RR non ci sono più perché tutta questa attività viene fatta direttamente dal gestore della piattaforma se sono analogiche se sono digitali è altra cosa si fa in modalità digitale quindi capite va pianificato l'impatto della piattaforma idem piattaforma nazionale dati altra cosa importante ricordate piattaforma nazionale dati è quella che vi consente l'interoperabilità fra alcune vostre basi dati alcuni vostri software e ad esempio ANPR ad esempio ANPR voi sapete che da metà marzo è stato varato il decreto che in una qualche maniera apre ANPR attribuisce a ogni cittadino un codice univoco ma questo codice univoco scrive il decreto deve servire per rendere interoperabile l'ANPR con i vostri gestionali per finalità istituzionali soprattutto per il famoso one answer cioè la possibilità di andare a reperire tutti i dati ma ad esempio io posso prendere SIOP e BIDAP per cui vengono alimentati automaticamente SIOP e BIDAP posso decidere di collegarmi in regime di interoperabilità con IMS per cui quando voi fate provvedimenti di contributi ad una qualche figura bisognosa voi non mandate più i risultati a IMS perché questi vanno tutti in regime di interoperabilità e così via questa attività va presa a coscienza da parte vostra pianificare iscrizione alla piattaforma nazionale notifiche e poi cominciare a verificare tutta l'apertura delle vostre banche dati e pensare fra di voi alle attività da fare Federica Morabito per la polizia municipale se le multe sono minime nell'anno l'ente non ha interesse a comprare un programma gestionale un connettore si perde il finanziamento in questo caso dovendo l'ente caricare manualmente si perde il finanziamento perché è obbligatorio Federica un API con la polizia municipale tributi lo potete scegliere voi scuola lo potete scegliere voi voi avete un unico obbligo polizia municipale quindi se voi non avete un gestionale voi non potete correre al finanziamento ma avrete un problema fra un anno come fate aderire alla piattaforma nazionale notifiche non è un obbligo è un'opportunità però perché è uno dei lavori che vi porta via più tempo pensate solo Federica quando voi dovete notificare atti per conto di altri comuni o per conto di altre pubbliche amministrazioni quanto tempo perdete quanto tempo perde il messo notificatore andare in piattaforma nazionale notifiche vi toglie tutti questi lavori pesanti sgradevoli squalificanti e questa è la scelta che dovete che dovete fare il vi dico subito il bando non teneva conto all'inizio del fatto che i piccoli comuni a volte hanno la polizia municipale in gestione associata la gestione associata non poteva partecipare al bando ma mi dicono al più presto Agid scusate Agid il ministero provvederà e quindi uscirà fra poco un bando rivolto a finanziare i connettori fra le gestioni associate di polizia municipale e piattaforma nazionale dati quindi preparatevi perché anche i piccoli potranno averlo quindi anche là via la carta comincerete a fare tutto notifiche digitali insisto chi resta fuori per un motivo o per l'altro deve porsi un problema perché è difficile poi non andare in piattaforma nazionale notifiche cioè continuate a fare un lavoro un po' alla cavolo fatto in modalità manuale quando invece avreste potuto farlo in modalità di tipo digitale qui sotto ci ho aggiunto quindi mi conviene rinunciare il finanziamento perché abbiamo gestione associata sì Federica perché te lo bocciano perché non hai i requisiti per farlo a meno che tu non faccia un'altra operazione compri con i residui dei finanziamenti un software di gestione qui non faccio i nomi dei fornitori perché eticamente non è corretto vi conviene comprare un software di gestione perché avete resti cioè voi da tutti questi bandi non è che spendete tutti i soldi ve ne avanzano x con questo x voi fate l'investimento e comprate il gestionale e il fornitore a quel punto vi dà il connettore fra quel gestionale e la piattaforma sono due un'operazione due operazioni che vanno fatte contemporaneamente il finanziamento della prima cioè connettore lo fai col bando PNRR il finanziamento della seconda che pagherai in un secondo momento è frutto dell'utilizzo dei residui ok è attività da pianificare cioè nel piano questo va messo è attività che voi dovete fare è piano triennale capite perché vi dico non potete usare solo lo schema Agit perché lo schema Agit non tiene conto di queste attività io vi voglio portare ad una attività più puntuale perché poi deve andare anche in performance il piano triennale di Agit non è concepito per le performance perché è rivolto a tutti all'Inps ai ministeri a tutti cioè voi invece siete comuni e siete soprattutto comuni di piccole dimensioni quindi voi dovete pensare poi con il risvolto sui in materia di performance qui io aggiungo peraltro un punto che è il tema della gestione del flusso documentale che ormai è digitale perché già oggi larga parte del flusso documentale è digitale perché tranne un po' di carta che porta il cittadino allo sportello e sono sempre di più residuali fatture sono tutte digitali Pago.pa è digitale le imprese è digitale liberi professionisti è digitale fra pubblica e amministrazione è solo digitale la produzione di atti di originali di atti da parte vostra è solo digitale resta solo un po' di carta cittadino singolo che porta il problema vero è che però quasi sempre sono reduce stamattina da un seminario a piccoli comuni sia chiaro esiste una discrasia fortissima voi poi ricevete flusso digitale ma me lo stampate e me lo rendete analogico rendendo tutto inutile dal punto di vista gestionale una gestione digitale nel piano triennale per l'informatica voi dovete programmare una attività tosta scusate il termine un'attività tosta di back office totalmente digitale anche perché se tu non hai un back office digitale non riesci ad alimentare il sito e quindi il sito disabitato in alcune parti probabilmente anche non riceve finanziamento se voi non fascicolate digitalmente adesso ti rispondo Roberto se voi non mi fascicolate digitalmente ad esempio uno dei requisiti del uno dei requisiti peraltro dell'applicazione della 241 è che il cittadino dal sito segua lo stato di avanzamento del procedimento ma se voi non fascicolate digitalmente io come faccio avere l'interfaccia per vedere lo stato di avanzamento del procedimento è impossibile quindi bisogna cominciare a fascicolare digitalmente questa attività va messa nel piano trenale per l'informatica piano per l'informatica deve prevedere che nel corso del prossimo anno e mezzo non dico che fascicolate digitalmente tutto magari la parte opere pubbliche liberi professionisti la farete più tardi ma tutti i servizi alla persona vanno tutti fascicolati digitalmente vanno tutti gestiti digitalmente altrimenti una parte del sito non è mai popolata inoltre siete fuori dalla norma quindi va fatto dice Roberto Pinto mi sono un po' perso per ottenere il finanziamento misura 1.4.5 piattaforma digitale notifiche l'ente deve avere anche il software polizia municipale è un prerequisito perché se tu non hai un software di gestione o tu hai un software che genera le contravenzioni e allora tu hai l'API cioè il connettore che collega questo software alla piattaforma nazionale notifiche altrimenti se le fate a mano e cartaceamente l'API a cosa vi serve complicato o no? l'API cosa vi serve o voi lo connettete al protocollo per cui ogni contravenzione viene protocollata è un minuto quindi è solo digitale e nel momento in cui poi viene protocollata passa in piattaforma però è molto faticoso come capite oppure dovete pensare adottarvi di un software per la gestione delle contravenzioni perché altrimenti è complicato la piattaforma nazionale notifiche è un connettore verso cosa? è entrato dentro la piattaforma ma porta flusso documentale da dove? se avete un software di generazione come avete il software Tributi il software Tributi genera gli atti da notificare dal software Tributi il connettore porta in piattaforma previa protocollazione stessa identica cosa è le multe le contravenzioni stessa identica cosa attenzione tenendo conto che liberi professionisti iscritti agli atti già oggi voi dovete notificarli obbligatoriamente in modalità digitale quindi tutti gli atti che attualmente vengono notificati contravenzioni codice della strada ma anche gli altri a un professionista iscritto in IPEC deve essere obbligatoriamente digitale per legge l'articolo 6b del codice dell'amministrazione digitale quindi capite che dovete fare un serio ragionamento sui software chi è che mette in piedi questa attività allora in primis responsabile per la transizione digitale l'RTD è figura sempre più importante è un RTD ricco adesso è un RTD che ha risorse finanziarie ma soprattutto il piano tenale per l'informatica quello pubblicato da Agit fa fare un salto di qualità altissimo all'RTD cioè gli dice che è responsabile cioè è la figura non solo che redige il piano tenale per l'informatica ma anche che provvede a tutte le modifiche di tipo organizzativo che rendono possibile il processo di digitalizzazione quindi è un forte organizzatore è una figura sempre più rilevante l'RTD non è più quel disperato che al gioco delle pagliuzze è rimasto con la pagliuzza più corta e quindi fa l'RTD perché non ne troviamo altri è una figura rilevantissima importante io capisco che voi siete piccoli comuni qui torna la mia idea forse vi ho già detto in altri webinar per cui nei piccoli comuni la miglior cosa è transitare a una gestione associata della transizione digitale quindi con un RTD di unione comunale è vero rispondo sempre a Federica è vero che tu metti lo storico delle multe però poi quelle multe devono essere quando avrai in mano il connettore quel connettore a cosa lo agganci Federica deve essere connesso a qualche cosa se non hai un software diventa un problema allora tornando al nostro RTD l'RTD è figura quindi sempre più rilevante sempre più importante ovviamente quindi posso ottenere il finanziamento se passo sì cioè se se il software da cui si emette allora devi chiedere al tuo fornitore Roberto se il connettore parla con il protocollo è chiaro cioè è il connettore fra protocollo e piattaforma sì però devi chiedere al fornitore se te lo garantisce l'ha chiesto al fornitore torniamo a noi ufficio transizione al digitale è lo strumento con la collaborazione del responsabile per la produzione del piano trenale per l'informatica chi è l'ufficio per la transizione al digitale l'ufficio per la transizione al digitale è il coordinamento degli apicali quindi ogni settore fornisce un apicale o una persona di sua fiducia che assieme al responsabile per la transizione al digitale redige il piano trenale per l'informatica che come avete capito non è una cosa informatica è una cosa organizzativa piattaforma nazionale notifiche coinvolge polizia municipale coinvolge i tributi per farvi due esempi la redazione dei contenuti del sito istituzionale è frutto di un lavoro collettivo dell'ente l'applicazione di tassonomia a tutte le schede a tutti i contenuti è dell'ente non è di un singolo settore quindi è un lavoro collettivo dove vanno coinvolti anche chi responsabile gestione documentale e della conservazione perché se noi entriamo nella gestione del back office digitale bisogna coinvolgere anche responsabile gestione documentale piccoli comuni nel vecchio ragionamento delle gestioni associate ma responsabile gestione documentale e responsabile della conservazione può essere anche un'unica figura e sia chiaro è piglio della 4 e 45 del 2000 quindi siamo nel 2023 in 23 anni il responsabile della gestione documentale dovreste anche avervelo dato figura rilevante deve essere coinvolta nella redazione del piano triennale per l'informatica nella parte dedicata al back office digitale e ovviamente responsabili dei settori come vi ho detto ecco ricordatevi che nella il responsabile della gestione documentale della conservazione viene nominato dal sindaco meglio con una delibera di giunta Federica meglio vengano nominati con una delibera della giunta mi pare sia la 4 e 45 che prevede una delibera della giunta state attenti nella definizione delle priorità del piano di tener conto da un lato tutti quelli dove dovete portare a casa i soldini quindi vanno programmati in primis perché altrimenti non avete i finanziamenti ma poi dovete parallelamente stare attenti a intervenire dove voi correte il rischio di sanzioni quel tema di pago PA di cui vi parlavo prima se voi continuate a mettere fuori gli IBAN eccetera eccetera prima o poi voi andate in regime sanzionatorio però ricordatevi sempre oggi non voglio parlarvi di sanzioni oggi vi parlo di buonsenso nel fare il digitale però ho l'obbligo di ricordarvi il nuovo articolo 18 BisterCAD violazione degli obblighi di transizione al digitale cioè attenzione transizione al digitale non è un'opzione che se vuoi fai altrimenti no transizione al digitale è obbligatoria e altrimenti viene vieni sanzionato cioè attenzione quando ti dice agit esercita poteri di vigilanza verifica controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente codice che è il CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione quindi tutte le linee guida agit ivi comprese quelle contenute nelle linee guida e nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ciò che vuol dire che voi le dovete fare perché altrimenti siete sanzionabili quindi voi nelle priorità voi dovete tener conto nella definizione delle priorità nel vostro piano e quindi poi anche delle performance voi dovete sempre tener conto di questi due fattori fattore uno dovete raggiungere arrivare vivi alla meta cioè applicare bando PNRR portare a casa i soldi ma poi anche tutto ciò che un domani può essere sanzionabile vi ho già detto di pago PA ma potrei parlarvi del non rispettare il cloud non fornire i cittadini servizi con speed CE continuare a erogare gli IBAN eccetera quindi sono tutte attività che sono sanzionabili cioè anzi sono tutte mancanze di attività che sono tutte sanzionabili nelle priorità queste vanno messe all'interno del processo di pianificazione quindi attenzione anche a questo aspetto come vi dicevo il piano triennale per l'informatica si deve intersecare con questi altri strumenti quindi è parte integrante del documento unitario di programmazione o un allegato al piano unitario di programmazione e soprattutto adesso che è finanziato con i documenti di programmazione finanziaria peraltro anche prima del PNRR alcune attività erano finanziate cioè quando voi dovevate comprare software è evidente che dovevano essere finanziate e quindi avevano un rapporto col documento di programmazione finanziaria quindi in tutti i casi c'erano la manutenzione che voi facevate ogni anno del CED e ciò doveva stare all'interno e così via quindi tutte queste attività avevano un costo attenzione l'esposizione della parte transizione al digitale molto più forte nei comuni con più di 50 dipendenti nel comune con sotto i 50 dipendenti voi mi entrate in stretta relazione con due punti piano performance come vi dicevo prima quindi ognuno dei nostri obiettivi deve trovare un proprio riconoscimento in performance piano organizzazione del lavoro agile pola perché se voi non avete cloud se voi non avete dotazioni digitali adeguate fare il pola cioè fare l'attività di smart working è non dico impossibile ma è molto problematico ma poi soprattutto come vi dicevo piano bisogni formativi del personale di quelli dei quali vi ho parlato di quelli di quali vi ho parlato prima volendo ma qui non è che perda troppo tempo anche col tema della corruzione della trasparenza il sito è lo strumento attraverso i quali il cittadino accede ai documenti il famoso FOIA Freedom of Information Act è evidente che l'obiettivo di rendere il sito un luogo aperto si interseca anche col piano di prevenzione corruzione trasparente il fascicolare digitalmente è uno straordinario strumento di prevenzione per la lotta della corruzione quindi anche questo si interseca completamente con il piano con gli altri piani quindi attenzione piano triennale per l'informatica che non è uno strumento a sé stante abbandonato là è uno strumento che ha fortissime interazioni con gli altri strumenti di programmazione qui sono i cinque obiettivi principali mi avvio a concludere i cinque obiettivi principali poi avrei anche altre slide ma siccome ve le diamo poi alcune altre considerazioni le trovate più avanti quindi voglio dedicare questa ultima parte finale a questi cinque obiettivi principali che io poi dentro il piano triennale per l'informatica di un comune vado a declinare il primo grande obiettivo è quello dello sviluppare le piattaforme abilitanti cosa sono le piattaforme abilitanti sono quelle piattaforme che sono messe a disposizione di tutta la pubblica amministrazione speed si usa per tutta la pubblica amministrazione allora la prima piattaforma abilitante alla quale voi dovete dedicare molta attenzione è a NPR tre anni fa la mia domanda sarebbe stata siete tutti transitati a NPR se non eravate transitati a NPR l'attività sarebbe stata transitare a NPR oggi avete a NPR che obiettivi dovete darvi il primo obiettivo è incentivare i cittadini a utilizzare NPR per scaricare certificati o fare cambi di residenza cosa dovete fare voi qui è soprattutto un obiettivo dell'ufficio anagrafe quando i cittadini si presentano allo sportello per chiedere un certificato presente in NPR buona prassi e cominciare ad indirizzare il cittadino ad NPR e a spiegargli come si fa questa volta te lo faccio la prossima volta te lo fai da solo questa volta te lo faccio però te lo faccio su NPR non sui software dell'amministrazione il secondo è legato strettamente alla piattaforma nazionale dati perché i vostri software dal famoso decreto che mi pare sia stato approvato il 15 di marzo sul codice univoco per ogni cittadino che serve per condividere NPR con i diversi software a NPR è una repositori di tante informazioni ad esempio gli ISEE prima o poi vengono collegati direttamente a NPR a NPR ci serve per il principio one-hands cioè l'autocompilazione della modulistica quindi abbiamo una parte di incentivo ai cittadini ma anche un miglior utilizzo da parte vostra cioè NPR non è più la chiesa dei dipendenti dell'anagrafe i dipendenti dell'anagrafe fanno la manutenzione di NPR a NPR per oggi una fonte aperta dal decreto che mi pare sia dal 15 pubblicato in gazzetta ufficiale se non ricordo male 15 marzo comunque nei giorni di marzo e che apre in una qualche maniera NPR di speed di speed vi ho già parlato quindi sono tutte le speed CIE e CIE non è qua perché CIE non è una piattaforma abilitante chiaramente quindi tutte le attività che voi dovete svolgere inerenti speed quindi più piattaforme online con speed CIE se siete rao pubblico insegnare al cittadino come prendere speed insegnare che CIE oggi può essere identificata utilizzata come identificativo a due livelli e così via Pago PA ve ne ho già parlato prima diminuire abolire l'utilizzo degli IBAN aumentare tutte le tassonomie quindi tutti i vostri servizi devono essere rigorosamente utilizzati utilizzando Pago PA cioè dovete avere quella che in gergo definiamo full Pago PA Appio Appio è importante è importante perché è il luogo d'arrivo di tante notifiche ricordatevi che nel momento in cui io d'ora in poi dovete pensare che nel momento in cui voi protocollate un qualche cosa quel numero di protocollo deve essere condiviso dicono le linee guida di Agit o sull'area personale del sito oppure sull'Appio quindi l'Appio deve diventare il luogo dove arrivano ad esempio i numeri di protocollo Appio deve diventare il luogo dove io ricevo la notifica piattaforma nazionale notifiche c'è un atto che ti è notificato dall'agenzia delle entrate o dal comune di Watte di Watte della Pesca spesso le vostre Appio espongono una serie di servizi che però non funzionano nel senso che non parlano con i vostri software gestionali il sottoscritto a un figlio minore e come molti di voi riceve ogni mese il contributo famoso quello di sostegno ai figli l'avviso che mi stanno accreditando quei soldi mi arriva sull'Appio perché perché il gestionale di IMS che emette quegli avvisi parla con l'ambiente dell'Appio questa stessa cosa dovete farla anche voi mandati atti tributari eccetera quindi con i soldi che vi danno per PNRR vi da soldi con i soldi PNRR perché almeno non ve li danno cioè se l'Appio non funziona è puramente espositiva soldi non vi arrivano perché non avete raggiunto il target PNN avrei da parlarne per 512 anni sappiate che prossimo anno parte PNN vi ho già detto cosa dovete programmare torniamo al piano per avvicinarvi bene a questo 2024 e infine PND della quale vi ho parlato e anche a tappe di avvicinamento secondo grande obiettivo è il tema del sito quindi modelli comunicativi e accessibilità del sito istituzionale quindi ci sono due componenti il primo il tema dell'accessibilità tutte le attività di accessibilità voi dovete programmarle quindi entro il 31 marzo c'è la dichiarazione degli obiettivi di accessibilità però dovete darvi degli obiettivi di accessibilità quindi il vostro sito i suoi contenuti è accessibile o no se non lo è vanno programmate tutte le attività e anche queste poi vanno in performance entro il 23 settembre di ogni anno dovete fare la dichiarazione di accessibilità do per scontato che ormai da un punto di vista softwareistico i siti siano accessibili WCAG 2.1 perché altrimenti voi avete siti non accessibili e poi modelli comunicativi cioè tutti i servizi che voi metterete online vi ho già detto prima le performance devono essere tutti da sito istituzionale quindi appoggiato al sito tutte le piattaforme dei servizi con speed o con c terzo punto tutto il tema della formazione gestione e conservazione del documento informatico qui adesso non ho più tempo ma c'è però chi ha assistito al mio precedente webinar sul documentale alcune cose le ha già sentite in tutti i casi nella nostra attività di sostegno come Formez questa parte del documentale la affronteremo molto cioè tiene tutto il tema scansione come cambi il lavoro di protocollazione la fascicolazione digitale perché altrimenti il sito non vi funziona eccetera eccetera quindi va programmato ad esempio entro il 2024 quanti procedimenti fascicoliamo entro quale data facciamo la scansione che nella forma è nel contenuto risponda a quanto previsto dall'articolo 22 del CAD e così via infine quarto punto è il tema che attieni la smissione dei data center di fascia B e quindi è il passaggio al cloud ma anche il tema degli open data attenzione che nei nuovi siti c'è obbligatoria un'area che si chiama documenti e dati dentro quest'area documenti e dati è il vostro portale open data voi dovete mettere con licenza creative commons tutti i documenti che voi considerate possano essere riutilizzati ma anche delle basi dati che già oggi voi avete disponibili e che in realtà non sapete cosa fare alcune sono addirittura già in amministrazione trasparente infine su tutto c'è il tema dell'interoperabilità e del rapporto con la piattaforma nazionale notifiche avrei altre mille robe da dirvi ma abbiamo circa ancora tre minuti se voi volete dedicarvi a delle domande più puntuali ci sono altre slide ma le troverete nel pacchettino poi naturalmente nella nostra attività come diceva prima Irene Torrenti siamo assolutamente poi disponibili a lavorare e a condividere grazie per la vostra attenzione grazie Michele grazie mille per questo escursus molto molto completo e molto pieno sul piano triennale ci hai fatto anche capire diciamo come tante delle cose di cui abbiamo parlato anche negli incontri diciamo che abbiamo già avuto insieme come questi appunto queste questioni stanno insieme in questo in questo documento sono appunto un elemento di programmazione indispensabile insomma perché senza programmare come dire si va avanti per emergenze e un po' come dire stentatamente quindi è tutto molto più difficile e volevo ricordare insomma prima di di chiedere se qualcuno ha qualche domanda che naturalmente le slide come vi diciamo e vi scriviamo sempre saranno pubblicate sul nostro sito sul focus territori in rete saranno insieme anche alla registrazione e le troverete da domani in corrispondenza diciamo della notizia che ha dato conto di questo webinar di oggi avremo un prossimo incontro la prossima settimana voi sapete che abbiamo fatto questi webinar diciamo anche grazie a un sondaggio che avevamo fatto una delle prime volte che ci siamo incontrati con voi per vedere quali erano gli argomenti più di vostro interesse quindi abbiamo seguito un po' questa questa programmazione anche diciamo quelle che erano state viste da voi come priorità abbiamo faremo invece ogni due settimane questa volta diciamo lo faremo la prossima settimana cioè sarà giovedì prossimo ci sarà appunto un webinar che sarà scusate che metto la slide così insomma ce l'avete presente e il 25 sempre nello stesso orario dalle 15 alle 16 e 30 in questo caso parleremo con Ernesto Beresario che è un avvocato insomma esperto di diritto dell'innovazione di tecnologie e insieme con Claudio Forchieri di tutte le sanzioni e delle cose che insomma variamente tutti i nostri relatori anche negli scorsi webinar insomma ci hanno ci hanno detto e ripetuto più volte li affronteremo diciamo un po' più come dire nel nel dettaglio chiedo diciamo se naturalmente se c'è qualcuno di voi che vuole che vuole intervenire sarà un piacere insomma darvi qualche altra risposta e altrimenti diciamo possiamo chiudere e darci un momento la prossima settimana ecco l'ultima ecco prego vai vai una domanda che dice potreste darci indicazioni su percorsi formativi da far fare al personale ovviamente c'è sillabo delle competenze digitali a disposizione ma poi penso se non lo so non vuole dire poi c'è questa iniziativa finanziata dalle regioni che è quella per le competenze digitali cioè le regioni adesso hanno a disposizione delle risorse da mettere più che altro risorse per formare formatori per voi mettiamola così poi un'attività sarà quella che facciamo noi come formez perché noi non è che ci limiteremo almeno io a venire là a chiedervi a che punto siete sarà una straordinaria opportunità per me che imparo e per voi con il quale faremo uno scambio per diciamo così aumentare anche il vostro bagaglio di competenze cioè aiutarvi materialmente a redigere un piano cioè non è che vengo là a chiedervi cioè mi interessa aiutarvi io sono uomo da campo diciamo piace molto darvi una mano poi a fare le cose poi se la piattaforma notifiche digitali sarà attiva solo da 2024 come sarà possibile adempiere l'attività post-contrattualizzazione previso avviso PNRR ottima domanda da girare al ministero per l'innovazione perché è chiaro che funziona piattaforma nazionale notifiche se parallelamente sviluppa PNRR cioè devono andare di in entrambe le cose la notizia che non è nuova è che in realtà ci sono già comuni che la stanno sperimentando e anche altri enti pubblici non è che la stanno facendo oggi piattaforma esiste è in fase di sperimentazione è prevista la fine sperimentazione nel 2024 buonsenso vuole che sia parallelamente alla fine del cantiere Bardo PNRR Benissimo grazie e ricordo soltanto a tutti quanti che alla fine adesso a chiusura del webinar sarete reindirizzati su una pagina dove potrete rispondere a un questionario sul gradimento di queste attività che stiamo facendo quindi ci farebbe molto piacere appunto che rispondeste e anche così insomma per orientare eventualmente insomma il nostro lavoro nei prossimi mesi quindi dandovi appuntamento allora la prossima settimana per giovedì 25 al solito riceverete 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 l'invito per questo webinar vi saluto e vi ringrazio a tutti i miei colleghi grazie a tutti voi buona serata grazie infinite arrivederci grazie per l'attenzione